E' stato siglato ieri mattina all'Aquila il contratto che dà a Mauro Mattioli l'incarico di nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale di Teramo. Mattioli, modenese di 62 anni, è stato rettore dell'Ateneo Teramano dal 2005 al 2009, eletto prorettore nel 99 e nel 2003, preside delle due facoltà di veterinaria e agraria, rispettivamente nel 95 e nel 98. E' un'importante scommessa di valorizzazione di un patrimonio già presente che potrà essere notevolmente potenziato se saremo in grado di tutti assieme trovare dei filoni comuni di interazione e di sinergia. Adesso non resta che cominciare a lavorare e cominciare a parlare di cose serie, negative o positive, criticando e anche urlando, ma parlare di cose serie, cose concrete. Tante erano state le polemiche, non ancora del tutto sopite, intorno a questa scelta che aveva di fatto rimandato l'ufficialità della nomina di diverse settimane. La nomina, infatti, arriva nonostante la bocciatura ministeriale, all'indomani della nota, tecnicamente unendo procedimento, rimessa dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della Salute, Silvio Borrello, in cui si definisce, priva di requisiti necessari, la designazione dello stesso Mattioli. Polemiche non lo so, di commissariamento non c'è, al momento commissariamento e l'attività è a questo punto nelle condizioni di poter procedere regolarmente. Per quel che mi riguarda la squadra di governo è completa, la mia disponibilità è la disponibilità di un rettore di università. Il governatore Luciano D'Alfonso ha ribadito che il parere ministeriale è consultivo e la prova ne è la nomina firmata ieri mattina. I candidati erano 24, ma solo 4 sono risultati in possesso dei requisiti richiesti a un'apposita commissione, nominata dalla Regione Abruzzo, d'intesa con quella del Molise.